Monte Carlo Ioz ha partecipato al progetto Cantiere 4.0 nell'ambito dei progetti di ricerca finanziati PORFESER e FVG. Tutto quello che Monte Carlo Ioz ha fatto in termini di innovazione trae spunto e ispirazione da quelli che sono i principi fondamentali della Lean Manufacturing. Partendo da un'analisi della realtà progettuale di Monte Carlo Ioz il progetto ha permesso di sviluppare strumenti atti ad integrare lo scambio di informazioni tra la fase progettuale e la fase produttiva. Ad esempio è stata messa a punto una piattaforma che sfrutta degli strumenti hub che fanno sì che gli operatori in produzione possano avere direttamente accesso ad un documento elettronico dove trovano delle informazioni molto semplificate e molto efficaci per quello che è la loro necessità. Oltre a questo la piattaforma raccoglie anche delle informazioni utili al progettista perché grazie alla piattaforma è possibile recuperare delle informazioni sulla vita dell'imbarcazione mettendo in campo dei processi di miglioramento prodotto molto molto mirati. Avere questo continuo scambio di informazioni tra la parte di progettazione e la parte di produzione garantisce anche di ottimizzare tutta la parte di controllo di qualità e di compilazione dei checklist aumentando notevolmente il contenuto tecnico del prodotto finale. Essendo inoltre le nostre imbarcazioni per gran parte realizzate in vetroresina un particolare focus è stato fatto in ambito di progettazione e suddivisione degli stampi stampi che dovranno essere il più possibile modulari per permettere personalizzazioni spinte a tal riguardo, soprattutto legato all'ambito di ricerca e sviluppo in fase prototipale è stata portata avanti anche un'indagine in campo di stampa 3D. I risultati ottenuti sono tangibili e lo vediamo soprattutto nel legame alla riduzione del tempo di produzione e soprattutto anche all'aggiunta di contenuto tecnico che hanno i prodotti che realizziamo. Per questo Monte Carlo Ioz è sempre coinvolta con uno spirito molto attivo in tutte quelle che sono le attività di ricerca e sviluppo portate avanti dalla regione Friuli Venezia Giulia. Grazie a tutti.